ciao a tutti gli amici del canale oggi andremo a vedere come entrare nel recovery mode su un sistema playstation 3 come vi farò vedere è molto semplice entrarci e vedremo nel dettaglio le funzioni che integra adesso la console accisa dovremo spegnerla quindi recarci sulla nostra playstation 3 dovremo tenere premuto fino a che non si spegnerà dobbiamo ripremere fino a che non farà due bip e poi rilasciare il dito ecco qui ci spostiamo nuovamente sulla nostra tv come vediamo ci si chiede di collegare il controller via usb mi raccomando controlli originali perché quelli non originali potrebbero non funzionare premiamo il tasto ps e ci troveremo davanti diverse opzioni metà fuoco come vediamo la prima e riavvia il sistema poi che non sa nemmeno cosa vi dica cosa serve poi c'è modifica spazio di archiviazione questa è probabilmente un'opzione che presenta sul mio modello perché originariamente era una super singola 12 giga su cui poi ho aggiunto un ssd da 120 quindi magari ci fa scegliere tre due sistemi di archiviazione io naturalmente scelgo le ssd poi abbiamo ripristi in posizione predefinite questo ci riporta la console con impostazioni come uscite di fabbrica attenzione però non ci cancella i giochi dati salvati ma ci ripristina solamente le impostazioni poi c'è ripristina la file system una funzione utile nel caso in cui avessimo problemi col sistema freeze più frequenti del solito lag insoliti nei giochi questa funzione può permetterci di far tornare il nostro sistema diciamo più stabile ovviamente se il gioco è fatto male ha problemi di natura non risolverà niente ricostruirci database è un po più o meno uguale a ricostruirci file system solo che questa opzione ci potrebbe succedere che ci slochi del psn quindi dovremmo rimettere solamente dentro il nostro account praticamente non cambia la mente del ripristina file system poi c'è ripristina il sistema ps3 questo è vero e proprio formatazione della console quindi perderemo tutti i dati e si perderemo tutti i dati giochi tutto quanto e poi c'è aggiornamento del sistema probabilmente la funzione utilizzata al momento visto che ci permette di aggiornare il suo firmware della console tramite chiavetta e in particolare ci permette di installare anche l'hfv un firmware diciamo quasi un custom firmware che poi ci permetterà anche di utilizzare in caso in futuro farò un video direi che non c'è altro mi auguro che questo video vi sia piaciuto mi raccomando condividete mettete like e in caso di domande non esitate a contattare